Come si diventa docenti nel 2023, alla luce dell'ultima riforma che abbiamo avuto nel 2022, lo vediamo in questo video, che sembra un video che guarderà delle informazioni di servizio, in realtà non è così perché poi il reclutamento docente è proprio una parte della normativa scolastica, quando si studia la normativa scolastica ci sono proprio i capitoli dedicati allo stato giuridico del docente e appunto le modalità di reclutamento del docente sono oggetto di studio, quindi se da un lato sicuramente insomma anche diamo anche informazioni utili per tutti coloro che magari hanno una laurea e vogliono capire, vedere come possono entrare nel mondo scuola, come possono insegnare, dall'altra però costituisce proprio anche argomento diretto della normativa scolastica. Una premessa prima di partire, chiaramente quella di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, ma poi anche quella di dirvi che in questo video noi ci occupiamo, ci occuperemo solo ed esclusivamente di come poter insegnare nei posti comuni, quindi non nel sostegno e non per quel che riguarda gli insegnanti tecnico pratici, quindi ci occupiamo di chi ha una laurea e vuole magari insegnare o in infanzia primaria oppure in secondaria di primo o secondo grado. Andiamo a vedere soprattutto alla luce della ultima riforma del 2022 un pochettino qual è lo stato a quale, lo stato dell'arte. E allora partiamo come sempre tra l'altro, ti ricordo che puoi andare a vedere i videocorsi che preparo per i concorsi in pubblica amministrazione e per quel che riguarda i concorsi nel mondo scuola preparo in particolar modo una normativa scolastica sul sito www.formazionediritto.it questo mi dà modo tra l'altro di accennare il fatto che a breve settimana prossima insomma tempo 10 giorni inserirò all'interno del corso di normativa scolastica già esistente anche gli ulteriori aggiornamenti del 2000 previsti insomma per il 2023. Questo è uno degli aspetti positivi del videocorso, il fatto che lo possiamo continuativamente aggiornare chi lo ha acquistato uno o due anni fa non è che lo deve riacquistare direttamente con le sue credenziali entra in piattaforma e si trova già l'aggiornamento previsto come appunto quello sul reclutamento docenti di cui parliamo in questo video in maniera molto molto schematica e tra l'altro come sempre poi chiaramente io parlo dico e spiego ma a grandi linee tutti i riferimenti le ulteriori precisazioni e via discorrendo vi rimando per questo ai vostri strumenti di studio. Allora mettiamoci nei panni di chi ha una laurea e magari dice sai cosa c'è voglio entrare nel mondo scuola come posso fare dove posso andare ad insegnare? Allora prima di tutto in maniera molto schematica distinguiamo fra infanzia primaria e secondaria di primo e secondo grado quindi da un lato quella che erano definite la vecchia scuola materna e scuola elementare e dall'altra parte scuola media e scuola superiore. Mi piace sempre ricordare questi termini che spesso ci rendono più chiaro ed immediato il concetto. Infanzia primaria quali requisiti di base devo avere? Allora il requisito per poter insegnare l'infanzia primaria è la laura in scienza della formazione primaria con relativo tirocinio completato. Questo è il requisito fondamentale ma non è finita qui perché anche coloro che hanno ottenuto il diploma magistrale per quel che riguarda l'infanzia oppure il diploma del liceo psicopedagogico e l'hanno ottenuto entro l'anno scolastico 2001-2002 ebbene anche loro hanno l'abilitazione all'insegnamento per infanzia e primaria quindi quelli che hanno la possibilità di poter rispolverare il vecchio diploma ottenuto magari anche più di vent'anni fa e si trovano nella stessa condizione per certi versi di coloro che hanno poi ottenuto la laura in scienza della formazione primaria e quindi hanno l'abilitazione a poter insegnare in infanzia primaria. Attenzione alla parole hanno l'abilitazione lo capiremo anche meglio dopo vuol dire che già possono insegnare non solo ma vuol dire che possono fare con questa abilitazione due cose fondamentalmente fra le diverse ma due le cose fondamentali che voglio citare in questo video da un lato possono essere iscritti nelle gps in prima fascia e nelle graduatorie d'istituto e dall'altra possono poi partecipare al concorso. Ora che vuol dire far parte del gps in prima fascia? Adesso questo non è un video sulle graduatorie però insomma gps sono le graduatorie provinciali per le supplenze sono divise in due fasce e essere iscritti in prima fascia in quanto abilitati è sicuramente un grande vantaggio perché chiaramente si è preferiti e le chance di poter insegnare sono sicuramente molto di più poi c'è anche contestualmente la possibilità di potersi iscrivere anche nelle graduatorie d'istituto, le 20 scuole che uno può in qualche modo indicare ma certamente essere in gps in prima fascia dà una maggiore possibilità appunto fare le supplenze quelle annuali quelle sino al termine delle attività didattiche ma l'immissione il ruolo la si ottiene soltanto con il concorso ecco perché un'altra possibilità che dà diritto chi è abilitato in infanzia primaria è quella di poter fare il concorso per ottenere l'immissione il ruolo e qui quindi questo è il discorso per quel che riguarda infanzia primaria e fondamentalmente non ci sono stati grandi cambiamenti con l'ultima riforma del 2022 che invece è intervenuta in particolar modo per quel che riguarda la secondaria di primo e secondo grado e allora quali sono i requisiti fondamentali che devo avere se voglio andare ad insegnare scuola media scuola superiore la prima cosa è una laurea che sia titolo di accesso su classe di concorso e deve essere una laurea magistrale o a ciclo unico non può essere quindi una laurea comunque triennale su classe di concorso che vuol dire vuol dire che io una volta quella mia bella laurea quello che devo fare è andare a vedere se in qualche modo no ai requisiti accademici previsti dalle diverse classi di concorso quindi si va sul sito classe di concorso punto it uno mette il proprio titolo e vede se effettivamente questo titolo dà diritto a poter appunto insegnare su una determinata classe di concorso ma non basta perché una volta che uno ha una laurea valida visto che effettivamente no è valida per la propria classe di concorso non basta perché la recente riforma del 2022 ha richiesto che si svolga un ulteriore percorso chiamato percorso abilitante per l'ottenimento di 60 cfu di 60 credi formativi universitari di cui se non ricordo male 10 discipline pedagogiche 20 di tirocino diretto questo in base appunto alla riforma vi do il preciso riferimento normativo che è il dl 36 2022 quindi decreto legge 36 2022 convertito poi con la legge 79 del 2022 so che già molti di voi diranno ma non erano 24 cfu ci arriviamo fra un attimo e vediamo che fine fanno questi 24 cfu allo stato quello che dobbiamo sapere è che la riforma prevede oltre alla laurea i 60 cfu e questo vuol dire che ho l'abilitazione no non si ha l'abilitazione ma con questi requisiti di laurea più 60 cfu posso fare due cose fra le altre parlo chiaramente come sempre a grandi linee posso iscrivermi alle gps seconda fascia quando ci sono i termini previsti per potersi essere iscritti quindi come vedete gps seconda fascia non prima fascia ecco perché non è un'abilitazione come invece accadeva l'abbiamo visto prima per l'infanzia e primaria semplicemente con la laurea in scienza della formazione primaria o col diploma di magistrale quando uno si è ottenuto entro il 2001 2002 oppure le gradatori di istituto ma appunto gps seconda fascia quindi ho meno scienza no per poter in qualche modo insegnare soprattutto su certe classi di concorso l'altra cosa che posso fare è invece partecipare al concorso cioè il percorso abilitante che ho fatto dei 60 cfu più la laurea che il mio titolo di accesso mi consente mi abita a poter fare il concorso perché solo il concorso mi darà l'abilitazione questo è stato proprio chiarito specificato ripetuto anche nell'ultima legge di riforma poi chiaramente bisognerà vedere come va questo concorso perché i concorsi possono avere tre esiti fondamentalmente da un lato uno ci prova e non va e quindi poi eventualmente ci riproverà dall'altra però i concorsi possono essere anche superati ma non vinti oppure vinti superare un concorso e vincerlo sono due cose differenti vincere un concorso vuol dire vincere proprio uno dei posti messi a bando cioè il concorso prevede dieci posti messi a bando io arrivo tra i primi dieci in quel caso ottengo quindi poi il posto l'immissione al ruolo il mio contratto a tempo indeterminato questo opposto però i concorsi possono anche essere invece semplicemente tra virgolette superati che è già comunque un'ottima cosa ma non vinti perché magari di quei dieci posti messi a bando arrivi undicesimo dodicesimo insomma l'hai superato ma non rientri nei posti messi a bando e quindi in questo caso è vero che non vinci il concorso però ottieni lo stesso ecco qui la parola magica l'abilitazione e cosa posso fare poi con questa abilitazione e beh posso essere iscritto ad esempio nelle gps prima fascia oltre che nelle gradatorie d'istituto sempre in quel caso in prima fascia quindi chiaramente con maggiori chance poi di poter insegnare non avrò ancora il contratto a tempo indeterminato l'immissione al ruolo però intanto sicuramente con l'abilitazione ho molte più chance rispetto al punto in cui mi trovo prima dove poteva essere iscritto nelle gps seconda fascia vi dovevo ancora una spiegazione su che fine fanno i famosi 24 cfu perché fino al 2022 noi diciamo per partecipare al concorso la mia laurea sul classe di concorso più 24 cfu adesso che succede adesso sappiamo che ce ne vogliono 60 però il legislatore nella riforma di cui è la legge 79 2022 ha comunque previsto un periodo transitorio in cui ha detto fino al 31 dicembre 2024 chi ha ottenuto i 24 cfu ma attenzione li ha ottenuti entro il 31 ottobre 2022 può comunque partecipare al concorso quindi il fatto di averli ottenuti entro il 31 ottobre 2022 darà diritto per tutti i concorsi scuola che ci saranno di qui in avanti sperando chiaramente che ci siano di poter partecipare direttamente cioè non ne dovrò ottenere 60 cosa che invece sarà così dal 2025 in poi in ogni caso i 24 cfu saranno comunque considerate parte integrante valida per chi già l'ha ottenuti entro il 31 ottobre del 2022 parte integrante valida dei 60 che sarà necessario invece conseguire dopo il 2024 quindi dal 2025 in poi tra l'altro la legge di riforma ha anche consentito a chi sempre entro questo periodo transitorio cioè fino al 31 dicembre 2024 ottiene comunque 30 crediti formativi universitari quindi di tutto questo percorso non ne fa 60 ma ne fa 30 e di cui in particolar modo se non erro 10 di tirocinio formativo diretto ecco in questo caso può comunque in questo periodo transitorio partecipare lo stesso al concorso o chiaramente i 60 cfu sono un percorso abilitante che si fa presso le università con le adeguate selezioni e via discorrendo ecco questo in linea generale in maniera molto schematica è un pochettino no il sistema attuale che abbiamo attualmente dico attuale perché poi in realtà con la scuola ogni governo vuole mettere mano al sistema di reclutamento lo stato attuale l'ultima modifica è quella del 2022 ripeto soprattutto per quel che riguarda secondaria di primo e secondo grado per quel che riguarda infanzia primaria invece le cose sono rimaste più o meno come erano anche già fino all'anno scorso questo è lo schema di base mi auguro di aver dato un contributo che questa cosa possa aiutare tutti coloro che in qualche modo vogliono entrare il mondo scuola ripeto oggi abbiamo parlato di quel che riguarda i posti comuni per quel che riguarda invece sostegno e anche per quel che riguarda gli itp gli insegnanti tecnico pratici faremo un altro video iscriviti al canale se ti interessano questi argomenti oggi abbiamo parlato di normativa scolastica ma più avanti parleremo anche delle altre materie utili per i concorsi in pubblica amministrazione e vai a dare un'occhiata ai video corsi che preparo per la piattaforma www.formazionedirito.it ci vediamo al prossimo video